Siamo qui con la dirigente dell'ITE Gentili Alessandra Gattari, alla luce di questo tragico, drammatico femminicidio, decisione di Giulia Cecchettin. Come ha vissuto personalmente anche in quanto dirigente scolastica questa vicenda? Beh, è vissuto in maniera assolutamente da figura che si preoccupa per questi ragazzi, che si preoccupa di soffermarsi su questa tematica che, a dire il vero, non esplode adesso con la tragicità di questo evento, ma è una tematica che l'Istituto aveva già preso a cuore da tempo in un contesto di educazione alle relazioni, al rispetto e alla prevenzione, con progetti che comunque erano già attivi in passato e che adesso si andranno ad incrementare. Mi riferisco al fatto di abbracciare, per esempio, la richiesta pervenuta dai rappresentanti degli studenti per l'ITE Gentili di far visionare ai ragazzi il film della Cortellesi e quindi, di conseguenza, riflettere su questa tematica, così come in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Macerata chiamare esperti, psicologi, esperti del settore per invitare le studentesse e gli studenti a riflettere su quanto è accaduto, ma soprattutto sul perché è accaduto e sul come ci si possa, ci si debba muovere per prevenire. Siamo con Aurora Lohan Ecco, appunto, parliamo con la dirigente scolastica di questo fatto drammatico, la morte di Giulia Cecchettin. Come l'avete vissuto appunto da studentessa e da studente? Io stessa, da studentessa, penso che anche a scuola sarebbe necessario comunque sensibilizzare o comunque portare avanti questo progetto, magari andando, non dico educare, però aiutare comunque gli studenti e studentesse a capire meglio il fenomeno che è successo e prendere magari delle iniziative riguardo a questo fatto. Io, appena ho ricevuto la notizia, sono rimasto indignato come studente, ma anche come ragazzo, questo comunque sia più o meno quetano dell'ex ragazzo di Giulia e quando appena è arrivato in classe ne abbiamo trattato con un professore, con il nostro docente di italiano, Matteo Medori e devo essere sincero che aver sentito anche il parere di altri ragazzi mi ha solamente aiutato a chiarirmi le idee sotto questo argomento. Quali sono le iniziative che avete messo in atto in classe o a livello appunto di assemblea d'istituto? Sempre riguardo questo progetto ci eravamo mobilitati anche gli anni precedenti grazie alla prof. Paola Formica che già da prima aveva iniziato comunque una sorta di progetto di sensibilizzazione attraverso mari dei lavori o comunque assemblee eccetera. Noi con alcuni docenti, Matteo Medori e la docente di economia, abbiamo aderito a un progetto della Carmen l'anno scorso con cui abbiamo anche chiamato un esperto della lirica che ci ha spiegato un po' in generale la lirica e anche cosa voleva tramandare l'autore della Carmen e abbiamo affrontato anche varie lezioni sotto questo aspetto facendo video e ricerche su donne che sono riuscite ad avere la meglio su questo mondo maschilista e quest'anno abbiamo riaderito allo stesso progetto con le classi del terzo. Il docente di italiano rappresenterà la scuola al teatro Laura Rossi venerdì sera.